Michele, festeggiamo questi dieci anni di Sanremo con le tue opere che chiaramente sono un segnale bello non solo per te ma per tutti noi. Sì, a noi ci fa piacere che almeno da dieci anni veniamo contattati per realizzare i primi speciali del festival. Sono tante le opere che abbiamo realizzato in tutti questi anni, premiando il gota della musica nazionale e internazionale. Quest'anno siamo veramente felici che arrivano queste nuove commissioni, ci riconfermono i due primi della critica, Damia Martini, due premi molto importanti che vengono consegnati dalla sala stampa dell'Ariston e sono dei premi che vengono consegnati sia per la categoria sezione campioni che per la categoria nuove proposte. Abbiamo realizzato questa scultura che raffigura una chiave di violino con il leone, questo per simboleggiare sia con la chiave la musica ma con il leone, il simbolo della città di Sanremo. Oltre a questi, quest'anno una novità, sono i due premi che ci hanno commissionato per la sala stampa Lucio Dalla. Anche questi sono dei premi che consegna la stampa e questo per noi è stato una ciliegina un po' sulla torta nel senso che non solo nell'arte riusciamo a esprimere quello che è la nostra arte con i nostri premi ma a ricordare due grandi personaggi come Lucio Dalla e Mia Martini, veramente questo mi emoziona. Poi specie Mia Martini, un orofo calabrese che realizza i premi per Sanremo e poter ricordare e mantenere vivo i ricordi di questa grande artista calabrese, veramente per me mi emoziona tutto questo. Grazie. Grazie.